Qui in Madhava sono arrivati 125 famiglie, sono arrivati in questi caravani, hanno vissuto qui durante due anni. Lavorare con loro è conoscere di più, fare parte della loro vita. Quando si parla di rifugiati, quando si parla di immigrati, si pensa soltanto ai numeri, ma questi numeri anche hanno una storia, hanno tutta una vita dietro. Pensiamo che questo è così importante per i giovani, così loro possono anche crescere, imparare che tutto questo non è un'utopia, ma è una realtà. Mi piace tutti i progetti e mi piace che facciamo diverse cose. Abbiamo riduce loro identità per i rifugiati, e credo che solo possiamo capire se ci troviamo queste persone. Credo che si arriva qui, che veniamo verso l'unica, per capire l'unica, per capire l'unica, e come questo, perdiamo l'unica, per l'unica, e questo è l'inizio, credo, di peace. La cosa che abbiamo trovato è che, beh, non potrebbero dare loro money, food, shelter, asciutto, ma potrebbero, ma potrebbero avere il nostro tempo come loro e noi, insieme, insieme. Il tema di questo anno è che ora è il momento, ora è il momento di fare qualcosa. È sufficiente di parlare, è sufficiente di leggere, ascoltare, e solo di guardare la televisione. Ora è il momento di agire. La nuova è il primo protagonista in questo momento. Ho lasciato l'Iraq un po' due anni fa, sono felice di andare a l'Australia e realizzare la mia vita. Siamo raggiungi, abbiamo la potenza di creare la pace con loro, quindi bisogna lavorare con loro. La cosa semplice sarà il meglio di dare alle persone. Ho immagino che tutti sono venuti con una idea diversa di pace, una esperienza, una esperienza di aspettazione di pace, e siamo venuti qui per condividere tutte queste cose, e quindi, con questo sharing, born a new idea di pace. Pace dependa di me.